Vogliamo lui che è una di console e soprattutto quest'altro, la mia stupida balletta, Mario! Fate un applauso a Mario! E' il mio saluto speciale questa sera, alla Pompea! Allora, mio Pompea! Ma sono sopra forza, che mentira! E' un mondo hot noto, non voglio farle, che di te dali lorsque fai quorumare! Gogisticati, wasicità, non sais che un tema, ma prima! E' un minuto insieme, ma chagheria! E' un minuto insieme! Sensualità, sensualità, che le ha spiegato l'anima, 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 l'anima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.